E' sempre difficile dopo pranzo, quindi a stomaco pieno, riprendere. Comunque, mi chiamo Sergio Lobono, sono di Bari, sono uno dei tre, tra virgolette, audaci che si sono avventurati in questa nuova impresa che abbiamo chiamato EV Charging. E' un'azienda nuova, una start up nata meno di un anno fa e che si occuperà di mobilità elettrica qui a Bari. Partendo da Bari, però il progetto è ben più ampio, tende ad allargarsi tutta la regione e poi, se Dio vuole, andremo oltre. Perché EV Charging? EV è l'acronimo di Electric Vehicle, quindi mobilità elettrica, stazioni di ricarica. Perché chiaramente se c'è possibilità di avere un'auto, economica, quindi di comprare un'auto, ci deve essere anche l'opportunità di poter ricaricare in maniera agevole l'automobile. Ecco quindi il progetto che EV Charging ha oggi, che è quello di divulgare queste stazioni di ricarica e non solo. Quindi un grazie agli intervenuti e un grazie a Caporusso che ci ospita in questa sede e soprattutto un grazie anche a Toro di Tesla. E dopo l'accento Lombardo che c'è stato con Invernizi di Evnau, è giusto anche dare un contributo a noi pugliesi e varesi, che in maniera tale che dando ognuno il proprio contributo riusciamo a mobilitare in maniera elettrica tutta l'Italia. Quindi partendo dal nord e finendo fino all'estremo sud e quindi alla Sicilia. Perché EV Charging? Dicevo che EV Charging suggerisce l'idea di mobilità sostenibile, però si occuperà, quindi nell'ambito della mobilità sostenibile, ci occuperemo noi di EV Charging, di tecnologia, di slocazione quindi delle colonnine elettriche, soprattutto compatibilità tra le varie colonnine che si vengono a creare, perché se io ho una colonnina, ho la possibilità di ricaricarmi presso un punto Enel di quelli tanto pubblicizzati che abbiamo sentito parlare, devo avere anche l'opportunità di poter scegliere dove e con chi ricaricarmi in maniera agevole per me. Quindi, diciamo, snellendo il procedimento proprio di ricarica. Le soluzioni commerciali connesse alla vendita di veicoli elettrici e di energia elettrica devono essere anche agevoli per me, perché io devo essere libero di poter ricaricarmi presso una sorgente Enel, presso una sorgente Sorgenia o presso un qualsiasi altro operatore energetico. Inoltre, devo avere anche l'opportunità e la facilità di poter monitorare dove potermi caricare. Cioè, io vi faccio un esempio, se io, diciamo, nel tempo che noi trascorremo qui, io posso ben disporre di una colonnina ubicata qui in zona e nel, diciamo, nell'asso di tempo della convention la mia auto si starà ricaricando. Inoltre, ci occuperemo anche di servizi di assistenza e manutenzione legati ai veicoli elettrici con dei partner locali con cui EV Charging ha già stretto dei rapporti. Noi attualmente abbiamo utilizzato diversi veicoli elettrici, li abbiamo testati tutti. Sia auto convenzionali elettriche, come la Nissan Leaf, come, diciamo, le auto ibride quali Toyota, sia l'ultima arrivata, la BMW i3, che testeremo nei prossimi due o tre giorni. È inutile dire che, mediamente, ogni persona italiana ed europea percorre 60 km al giorno. Quindi, pensare al mezzo elettrico, quindi all'auto elettrica, diciamo, con l'idea, non so, se facessi il rappresentante, quindi percorro 250 km al giorno o 400, pensare all'idea di auto elettrica, tra virgolette, improponibile oggi. Però ci arriveremo. Del resto Tesla c'è già arrivata, perché ha un prodotto che, seppur sulla carta, diciamo, garantisce 400 km, diciamo che i 300 km reali sono fattibili. Anche se è un prodotto, diciamo, alto di gamma e quindi necessita di un esborso economico abbastanza sostenuto. Quindi la disponibilità di colonine di ricarica rapida, oltre che, diciamo, comodamente dislocate su tutto il territorio pubblico, rappresenta e rappresenterà un vantaggio pratico, utile a vincere i freni psicologici e a rendere più agevole la ricarica. Noi abbiamo testato diversi mezzi. Chiaramente, nella realtà, i 120 km sono fattibili più o meno da tutti quanti. Quindi siamo ben lontani dai 200 km che proiettano le aziende produttrici dei mezzi. A meno che non attuiamo una guida ultra economy e ultra eco, cioè a 80 km all'ora in tangenziale, dove davvero con le 500 km o anche i motorini ci possono venire addosso perché intralciamo il traffico. Comunque, nonostante i 120 km, i 130 km di autonomia media, i risultati sono senza dubbio positivi sia in termini economici sia in termini di, diciamo, riduzione delle emissioni di CO2. Le stazioni di ricarica, il centro di controllo, l'interfaccia web e il servizio SMS. Il futuro, che non è futuro per noi ma è presente, riguarda innanzitutto una rete infrastrutturale che comprende tutte le colonnine con tutte le caratteristiche che le stesse hanno, cioè il display, le protezioni elettriche, misuratori di energia elettrica, modem, eccetera, sia in modalità master che in modalità slave, sia in versione pubblica che privata. Vi faccio una nota. Il colosso multinazionale Enel, che è tanto presente nel discorso mobilità elettrica, sta puntando, in maniera positiva per tutti, sulla locazione delle colonnine sul suolo pubblico. A Bari, ad esempio, che è inserita nel progetto Smart City, ci sono delle colonnine in Corso Cavour, ad esempio, le prime da loro messe, che tuttavia, diciamo, non presentano dei sistemi di sicurezza della vita reale. Vi faccio un esempio. Camminando su Corso Cavour, il lato bocchettone della colonnina appare, diciamo, sul lato della strada, dove transitano le auto e i voicoli. Quindi, diciamo, questo ha suggerito a noi, che siamo gli outsider, gli ultimi arrivati, seppur avendo idee chiare, di analizzare non solo la colonnina in termini di efficienza per il cliente, ma soprattutto in termini di sicurezza. Ecco perché noi abbiamo da poco intrapreso un progetto, in partnership con il Politecnico di Bari, che abbiamo con lo spin-off la Policonsulting, il professor Massini, che presiede il Master sulla sicurezza, che è orientato esclusivamente allo sviluppo sia dell'informazione di tutto ciò che riguarda le colonnine elettriche e la mobilità elettrica, sia la formazione degli operatori, e quindi delle persone, con una sensibilizzazione anche dell'opinione pubblica. Quindi organizzeremo, abbiamo già organizzato un paio di eventi, sia a Gioia del Colle sia a Bitonto, sia per quanto riguarda la stessa sicurezza. Cioè è inconcepibile che non si venga, non si analizzi, anzi, diciamo una semplice connessione al veicolo da un lato anziché dall'altro, che può intralciare e quindi procurare danno a chi può passare con un motorino, che può strisciare il bocchettone e tirarsi via la colonina, con delle conseguenze che non sappiamo. Le stazioni di ricarica da noi utilizzate, vengono utilizzate e montate, ne abbiamo montate circa 10 se ben ricordo, hanno un centro di controllo che da remoto gestisce tutta una serie di dati e valori inerenti, sia la modalità di erogazione, sia il chilovattaggio erogato, sia il consumo. Inoltre da remoto, mediante un'interfaccia web, noi potremo non solo quindi monitorare e vedere ciò che fa la colonina, ma potremo e possiamo indirizzare, perché oggi già abbiamo questa tecnologia, l'utente ad una colonina anziché un'altra e addirittura prenotargliela. I vantaggi ambientali della mobilità elettrica. Tutti ne sentiamo parlare, però ve li riassumo in 5 minuti, che in 2 minuti, diciamo, evidenziando ciò che è la nostra esperienza reale. Se voi visitate il nostro sito, www.evcharging.it, potrete vedere che abbiamo testato dalla Toyota Prius Plugin, alla Nissan Leaf, alla Renault Zoe, addirittura ai mezzi di trasporto merci, come il Renault Kangoo. Effettivamente, il vantaggio dal punto di vista economico, perché è quello che oggi, in tempi di crisi, ci sottolinea, cioè, evidenziamo di più, si tramuta in un risparmio, a volte anche del 50%. Cioè, vi faccio un esempio, una semplice BMW Serie 1, diciamo, un'auto che è per turbodiesel, un'auto che con un motore common rail percorre all'incirca 15 km al litro, paragonata ad un mezzo elettrico, come una Renault Zoe, diciamo, costa ogni 100 km da 5 a 7 euro in più. Quindi, fate le dovute proporzioni per capire effettivamente se questa tecnologia, prima o poi, prenderà piede. Il costo delle infrastrutture. EV Charging sta puntando molto sullo sviluppo di un network infrastrutturale, dove sarà comodo per l'utente potersi ricaricare in qualsiasi punto, appunto, o presso qualsiasi struttura, può essere anche un'azienda, che aderisce al network di EV Charging. Cioè, voi, qualsiasi persona che oggi è presente a questo convegno, prima di arrivare qui, mediante l'applicazione che verrà diffusa da noi, potrà vedere se la stazione di ricarica è già disponibile, è attiva e se la può prenotare. Questo permetterà, diciamo, un snellimento stesso dei costi sia di attesa sia di utilizzo della stazione. Ogni punto di ricarica permette di ricaricare il veicolo, sia esso un veicolo elettrico che uno scooter ed un e-bike. Addirittura, abbiamo prospettato nei due progetti che abbiamo presentato alle istituzioni, cioè ai comuni, tra cui uno è Bari, un secondo è Gioia del Colle, un terzo è Bitonto, abbiamo prospettato addirittura la possibilità di poter ricaricare i mezzi dei disabili. Non so se Enel ci ha pensato, comunque noi ci abbiamo pensato. Il sistema di ricarica nostro, il che contact, è sicuro e risponde da tutte le norme europee. Oggi possono essere disponibili, sono disponibili sul mercato diversi tipologie di colonie che spesso sono di produzione estera e anche cinese, asiatica. Noi abbiamo scelto un partner che è europeo, che è ben addentrato e che soprattutto ha un software gestionale che è all'altezza delle nostre esigenze. Il costo di ogni installazione comprenderà non solo la fornitura, ma anche l'installazione della stessa colonnina. Basta pensare che se fate un giro in centro città, noi abbiamo montato una colonnina da 23 kilowatt presso il gesti parche, che è il parcheggio multipiano, quello della zona Ateneo, al primo piano. Lì, quella colonnina che è identica a quella che è presente qui fuori, ha una capacità di erogazione di 23 kilowatt. Questo ci ha permesso in termini reali, lo abbiamo proprio monitorato, di caricare una renozoe dal 29% di capacità al 99, quindi con il pieno, dal 29 al 99% in appena 34 minuti. Quindi significa che se l'impianto è, diciamo, abbastanza potente, tale da sostenere una forza di erogazione, una capacità abbastanza ampia, quindi, diciamo, oltre i 30 kilowatt di potenza, io tranquillamente posso erogare quel tipo di potenza in termini abbastanza brevi senza utilizzare una fast charging station come quelle che Tesla sta sperimentando in California e che porterà in Olanda e quindi nel 2014 in Italia. Ciò che blocca non le infrastrutture ma, diciamo, lo sviluppo veloce della vendita di veicoli elettrici e delle stazioni di ricarica sono i limiti riguardanti sia l'autonomia dei mezzi sia i costi di approccio d'acquisto dello stesso veicolo. Questi sono, purtroppo, diciamo, dei muri che andranno valicati solo ed esclusivamente mediante una collaborazione con le istituzioni e quindi con dei piani creati ad hoc anche a livello regionale. Noi abbiamo quando abbiamo diciamo partecipato alla Fiera del Levante nel Salone delle Start-up lo scorso settembre abbiamo avuto l'onore di avere la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati l'Onorevole Boldrini noi abbiamo chiesto diciamo un intervento soprattutto collaborativo al fine di agevolare non solo la diffusione e la vendita dei veicoli ma anche la diffusione e la vendita delle infrastrutture. Quindi per questo motivo è necessario non solo una collaborazione e una partecipazione pubblica ma soprattutto un coinvolgimento istituzionale dal punto di vista locale per poi estendersi al punto di vista nazionale in maniera tale che è un veicolo che mediamente costa un 30.000 euro mediante agevolazioni non solo nazionali ma anche regionali possa essere appetibile ad un prezzo che oggi diciamo è auspicabile dall'opinione pubblica intorno ai 16.000 euro. Comunque tempo un anno ci arriviamo. Le stazioncine di ricarica quindi saranno posizionate in parcheggi privati e in punti strategici e serviranno a educare il cittadino alla mobilità elettrica. E' inutile dirvi che il feedback positivo che c'è da queste manifestazioni è enorme. Noi abbiamo presentato un piano per il comune di Bitonto alla presenza del sindaco che permetteva dove abbiamo avuto un ritorno in termini di proprio collaborazione delle persone in piazza durante una domenica sono bastate tre ore dove tutti quanti erano invogliati a capire come funziona come non funziona la corrente l'abbonamento eccetera eccetera quindi questo e manifestazioni di questo tipo che noi abbiamo inserito nel progetto IFS cioè informazione formazione sviluppo oltre che sicurezza proprio questo è la base cioè un'educazione alla mobilità dei cittadini che oggi non sanno diciamo nei dettagli come funziona e come potersi approcciare a questo tipo di mezzi quindi hanno bisogno tutti quanti di vedere di toccare di capire di sedersi in macchina e poi lo sappiamo benissimo che l'auto corre con l'infrastruttura e l'infrastruttura insieme all'auto quindi vanno di pari passo entrambe per quanto riguarda i punti strategici della città di Bari dove voi sapete che Bari è inserita nel circuito delle smart city quindi c'è tutto un discorso a livello nazionale tuttavia noi nel nostro piccolo nonostante siamo nati da appena un anno abbiamo presentato al comune di Bari e al reparto all'ufficio tecnico un progetto di ampliamento della rete strutturale di colonina per la ricarica elettrica con dei punti strategici non ve li sto qui ad elencare tutti ma sono dei punti diciamo allocati in diciamo territori dove si potrebbe avere dove la stessa la stessa colonina e lo stesso punto di ricarica potrebbe essere un punto per generare una mobilità sociale che va nella direzione di creazione di un profitto sociale ve lo diciamo detto così in termini generici poi se mai avremo più tempo per poter approfondire però questo è quello che è una realtà aziendale come la nostra piccola che non ha avuto una lira e ci tengo a sottolineare di contributi statali o pubblici è diciamo cerca di coinvolgere l'opinione pubblica non a un futuro ma a un presente che è già futuro questi sono i punti da noi già installati il primo circa un anno fa a meno di un anno fa proprio in questa zona zona Santa Caterina è stato inaugurato dal sindaco di Bari il Michele Emiliano addirittura inaugurammo noi prima tre mesi prima della posa della prima colonina da parte di Enel la seconda installazione è stata in centro città presso un garage che è l'autopark in via Piccini la terza installazione è presso la concessionaria Peugeot Martino poi abbiamo proseguito con la cittadella mediterranea della scienza perché? la cittadella mediterranea della scienza è un grande diciamo capannone sono circa 3.000 metri quadri dove transitano un sacco di bambini quindi le scuole le scolaresche ecco il nesso con il progetto IFS quindi informativo quindi informare non solo i maggiorenni ma soprattutto i bambini i quali sono molto più sensibili ad una diciamo cultura della sostenibilità e dell'eco la colonnina inaugurata presso la cittadella mediterranea della scienza diciamo fu inaugurata alla presenza del presidente della fira di Bolzano Marsonel in occasione del convegno del Climaus Puglia la quarta installazione che è quella diciamo cui accennavo prima cioè presente nel gesti park Cesare Battisti a Bari zona Ateneo fu inaugurata dall'assessore Loredana Capone che è l'assessore alle attività produttive ricordo benissimo non solo il giorno ma anche l'evento in genere perché due ore dopo la nostra fu inaugurata una stazione per una colonnina da parte di Enel quindi ciò diciamo simpaticamente perché accompagniamo l'assessore lì ha messo in evidenza come il mercato è ancora vasto per tutti quanti e quindi c'è possibilità non solo di crescita ma quello che auspico io e auspichiamo noi di EV Charging di sinergie con diciamo multinazionali e diciamo aziende che sono molto più grandi di noi e che hanno disponibilità economiche illimitate io ho sempre detto ai miei soci che se avessimo il 10% delle possibilità economiche di un Enel avremo già elettrizzato tutta l'Italia comunque partiamo da Bari e andiamo avanti la partnership con l'associazione Borgo Murattiano voi sapete che il futuro va diciamo verso un allargamento delle città che da semplici diciamo città diventeranno sempre più metropoli quindi diciamo il veicolo elettrico che di per sé diciamo ha il suo ha la sua maggiore efficienza proprio nei centri urbani ha bisogno di una collaborazione anche con determinate associazioni tra cui i commercianti i quali diciamo valorizzando questo tipo di mobilità cittadina senza dubbio potrebbero incrementare diciamo le proprie attività commerciali e quindi le proprie vendite questo è un accordo che abbiamo fatto quindi noi a Bari coinvolgendo il presidente bergamasco dell'associazione Borgo Muratiano al fine di rendere il centro il centro cittadino quindi sempre più libero da emissioni di CO2 e silenzioso questa è stata in occasione del del Climaus Puglia diciamo un veicolo elettrico in partnership con la Gringo e quindi Car come funziona diciamo il discorso della ricarica si firma un contratto si ha una card la card viene strisciata sull'RFID presente sulla colonnina la quale mi autorizza all'erogazione dell'energia quindi è pronta l'auto per essere ricaricata ai tempi che vi dicevo prima chiaramente questo può avvenire in parcheggi pubblici o semi pubblici come il caso del gesti parking centro presso l'Ateneo ma supponiamo di avere diciamo un appartamento o diciamo un garage condominiale si può benissimo installare una colonina di quel tipo però con un'erogazione in kilowatt inferiore anche perché in questa maniera è vero che ci si ricarica in un lasso di tempo superiore però diminuiscono anche i costi viste le spese di allaccio che Enel purtroppo pretende oggi questo è un scusate nel progetto di sviluppo nel piano di sviluppo presentato al comune di Bari è presente questo tipo di ricarica basata su una pensillina con la quale diciamo in assoluta autonomia viene assimilata diciamo l'energia elettrica sufficiente per poter ricaricare poi un mezzo quindi questo tipo di installazione oltre a dare un guadagno effettivo alle tasche di un comune che può essere Bari così come può essere qualsiasi altro comune ha una finalità anche e soprattutto mediatica perché informa e forma i cittadini a questa nuova evoluzione che renderà le città più pulite e quindi silenziose per quanto riguarda il silenzio quando proverete un'auto elettrica capirete che gli altri non vi ascoltano anzi non vi sentono ma vedranno arrivare proprio l'automobile all'improvviso questo è da un lato un vantaggio positivo da un l'altro diciamo può essere diciamo un handicap che però con dei sistemi diciamo di diciamo avvisamento acustico è stato già cioè è pronto ad essere bypassato quindi ci saranno dei sistemi tali dei BIP che renderanno queste auto infatti oggi sono optional però diciamo diventeranno presto diciamo di primo impianto sulle automobili saranno degli avvisatori acustici tali da diciamo non incorrere nel rischio di diciamo investire qualche pedone questo tipo di installazione quindi sarà visibile sia ai cittadini sia ai turisti che in visita a Bari potranno riconoscere il paese e quindi l'eccellenza dal punto di vista ambientale perché il futuro delle città si gioca proprio su questo sui termini dell'efficienza quindi ogni comune dovrà dimostrare di essere non solo il più efficiente ma anche il più diciamo ecosostenibile questo è il sindaco di Gioia del Colle con a fianco una fotografia della giornata dell'evento dove eravamo presenti sia con la Toyota Prius plug-in vi faccio un esempio in termini economici visto che ci siamo una Toyota Prius plug-in che è un'auto che sulla carta costa 39.000 euro vi permette di percorrere con 10 euro attuali quindi circa diciamo calcolando il costo del carburante della benzina a 1,70 euro 1,72 euro 138 chilometri una BMW testata una serie 1 turbo diesel con l'equivalente di 10 euro a malapena riesce a raggiungere tra i 90 e i 100 chilometri quindi questi sono i risultati in termini di economia effettiva in chiave di proprio badando alla tasca senza poi pensare a ciò che oggi purtroppo viene ancora trascurato qui da noi e cioè i benefici in termini di emissioni di CO2 che sono davvero notevoli e tanti quindi dal sud perché la prima rete di infrastrutture privata perché diciamo noi abbiamo inaugurato l'azienda circa un anno fa siamo stati non dico i primi però forse tra i primi e Gioia del Colle è pronta per l'installazione diciamo del paese che la collegherà al capoluogo qui ci si riconduce al discorso di network che noi stiamo cercando cioè io oggi sono qui a Santa Caterina voglio andare a Gioia del Colle e ricaricare l'auto io con la mia application sul telefonino avrò l'app EV Charging che non sarà una semplice app ma mi permetterà addirittura di prenotare la colonina che è situata in via XX alle ore XX quindi quando io mi richerò al comune o in un'altra location quella colonina mi starà già aspettando e già riconoscerà diciamo mi riconoscerà come utente e cliente di conseguenza io da Gioia del Colle se volessi proseguire il tragitto e andare a Bari ecco diciamo la sinergia che stiamo cercando di creare tra i vari comuni quindi Gioia del Colle e Bari io avrò la possibilità di poter ricaricare il mezzo anche a Bari sempre sulla diciamo mediante questo tipo di procedimento e di applicazione questa è una vignetta che ci fa sorridere perché in tempi di crisi è bene sorridere altrimenti diventa davvero triste quindi l'auto elettrica è una realtà e quindi non ci rimane che vedere quale sarà l'aspettativa dei conducenti quindi gli uomini la vogliono sicura e bella le donne vogliono risparmiare e noi pretendiamo città più pulite e silenziose per il nostro futuro e v-charging è una realtà piccola che non solo vuole crescere ma soprattutto vuole evolvere in sinergia con gli stessi cittadini in maniera tale che diciamo possiamo lasciare qualcosa di davvero positivo non solo a chi ci guarda da fuori ma soprattutto ai nostri figli grazie per l'attenzione e speriamo che diciamo dal punto di vista sì dimmi per caso rientrate nel progetto fixo del Politecnico no noi abbiamo una partnership con lo spin off del Politecnico che è il Poli Consulting che fa capo al professor Masini che attualmente gestisce il master sulla sicurezza il discorso sicurezza per noi è molto importante perché perché ovv no non siamo comunque mi dà la possibilità di accennare giusto a una cosa in termini pratici se voi fermate un vigile del fuoco e gli dite che ne sai di auto elettriche apriti cielo e tabula rasa quindi ecco perché ev charging vuole come perché in caso di incidente bisogna sapere come mettere le mani prima il Roberto di Tesla prima Roberto di Tesla Motors ha accennato ad un calo del titolo Tesla di 65 dollari EV charging non solo è presente nel discorso delle colonie elettriche per auto ma fa anche un'analisi finanziaria di quelli che sono i competitor sul mercato un titolo che fino a due mesi fa sovraperformava del 520% e che oggi guadagna il 250% ha perso il 250% questo perché perché sono state pubblicate dei video su due o tre incidenti dove come dicevano stamattina sono andati a fuoco tre Tesla allora quando un'auto va a fuoco i vigili del fuoco che sono i primi che intervengono devono sapere come muoversi e bisogna essere diciamo competenti e preparati quando si ha a che fare con un pacco batterie di 5000 batterie piccole Panasonic perché ha tanto ammonta diciamo la capacità in kilowatt di una Tesla model S e sapere le emissioni e soprattutto gli acidi che si possono sprigionare quindi ecco perché noi stiamo sottolineando il discorso della sicurezza e stiamo cercando di portarlo avanti con parlate con il comando dei vigili del fuoco e vediamo che cosa vi dice a me hanno detto che loro assolutamente non hanno avuto nessun tipo di formazione o altro però ecco l'importante è che ognuno dia il suo contributo quindi non te lo so dire non è il mio mestiere ma cosa trovi nel cofano il cofano il cofano è vuoto le batterie sono sul pianale non sono nei cofani ok io ho finito se c'è qualche domanda se c'è qualche domanda grazie scusa come funziona dimmi come funziona diciamo il metodo di pagamento ho visto prima allora il sistema di pagamento noi lo metteremo sul mercato a gennaio il punto è che attualmente diciamo un grosso competitor come Enel permette di diciamo come modalità di pagamento ti faccio sottoscrivere un contratto quinquennale dove tu il primo anno paghi 60 euro e puoi prendere e attingere tutta l'energia che vuoi però poi dal secondo anno punto interrogativo mi chiedo io e quindi si dovrebbe chiedere il cliente allora noi presenteremo il nostro diciamo sistema di pagamento basato sia sul consumo chilometrico sia su un consumo in kilowatt cioè tu hai una card nella quale sei caricato per tot chilometri o per tot chilometri kilowatt quindi se tu sai che mediamente percorri mille chilometri al mese io ti darò un abbonamento per mille chilometri che ti copre i mille chilometri di percorrenza che costerà x euro questo dal punto di vista aziendale è importante perché rispetto ai sistemi attuali avendo diciamo un conteggio e quindi una misurazione dei chilometri che vai a percorrere effettivamente io ti trasformo un costo variabile in un costo fisso in bilancio tenendo presente che anche l'automobile elettrica di per sé tende a cancellarti i costi variabili perché non avrai più i costi di manutenzione inerenti olio tagliandi spese diciamo similari a questo sì eh questa è una bella una bella domanda questa ehm di regola in teoria pagheresti zero diciamo fino a un massimo di 0,25 euro a kilowatt oggi però noi ci siamo tenuti larghi fino a 0,30 non nei costi degli abbonamenti che daremo nei costi effettivi dell'energia perché oggi quantificare eh in eh termini economici il costo effettivo dell'energia eh siamo ancora allo stadio sperimentale perché quando dipende questo dipende eh innanzitutto dal kilowattaggio che tu impieghi se hai una colonina che diciamo ti prende 3 kilowatt e mezzo i costi siamo diciamo più o meno simili alla cifra che dicevi ma se hai un impianto che diciamo da 23 kilowatt quindi una colonina come quella del gesti park tu devi avere anche dei costi a monte che ti permettono di poter utilizzare 23 kilowatt quindi come spese della bolletta energetica e cioè quote dall'accio quota fissa quota energia eccetera queste vanno a lievitare quindi il costo non è più di 0,20 0,25 ma potrebbe sicuramente lievitare no inversamente proporzionale al sistema sì più o meno sì e dipende se hai un impianto da 60 kilowatt e poi bisogna vedere se l'impianto è collegato solo alla colonina o se l'impianto è di tutta l'azienda se l'impianto lo pensi in questo momento volendo un'alta potenza in questo modo anche i grandi utili come Enel in futuro lo scenario sarà di far pagare di più chi vuole la ricarica rapida perché la ricarica rapida in qualche modo crea un stress sulla rete quindi la rete fatica quando inizia a caricare non so anche da 50 kg a cui non è necessario far pagare gli utenti quindi ci sarà un sistema in cui gli utenti saranno spinti per esempio a ricaricare la notte grazie salve il popolo della rete comunque gli utenti saranno spinti a caricare soprattutto la notte a bassa potenza perché quella è la situazione per la rete ottimale anche perché noi spesso ci troviamo come la Francia a buttare energia elettrica la Francia per il nucleare noi per l'idroelettrico quindi è la condizione ideale se uno vuole ricaricare nell'ora di punta al giorno pagherà abbastanza salato oppure in autostrada questo sarà il tetto di Enel è 40 centesimi al kilowattora esatto c'è a dire un'altra cosa che spesso quando si fanno i calcoli del cosso a chilometro non si considerano il rendimento del sistema nel senso che abbiamo una perdita nel caricabatterie della macchina e poi abbiamo un'ulteriore perdita nella trasformazione dell'energia potenziale in chimica in qualche modo quindi quella parte alla fine hanno fatto degli studi è abbastanza sensibile nel nostro piccolo qui da Bari li abbiamo fatti anche noi una ricarica diciamo di una renozoe che dovrebbe impiegare all'incirca 24 23 rotti kilowatt come pieno effettivamente come potenza erogata viene diciamo conteggiata all'incirca 27 kilowatt quindi anche noi da Bari riusciamo a fare qualcosa del genere qualche analisi anche perché diciamo noi che crediamo nella mobilità elettrica dobbiamo divulgare le notizie reali non come fanno le case automobilistiche che dicono l'auto fa 24 chilometri al litro assolutamente no assolutamente sono cazzato sono diciamo un po' sono un po' pompati comunque bisogna anche dire bisogna anche dire che è tutto allo stadio sperimentale però effettivamente in termini di dispersione come accennava bisogna diciamo accennare a questa diciamo variabile che è presente che nessuno dà quindi un'auto tenete presente che è un'automobile elettrica oggi il pieno lo fa con un carico batterie che va da 15 a 24 kilowatt per quanto riguarda non lo so una Peugeot Yon 15 kilowatt una Nissan Leaf sta sui 24 kilowatt lo stesso credo la Renault Zoe sì un 23 kilowatt la Tesla vabbè abbiamo a 60 80 se lo può permettere Tesla potrebbe eseguire solo quando si fa un percorso distante allora magari uno invece di fermarsi 6 ore per fare una ricarica allora magari in un'ora riesce a fare un piano però ci sono categorie come i corrieri per esempio che nell'arco della Rosa non potrebbero avere bisogno di una ricarica ma infatti qua non so chi usa l'auto per lavoro per lavoro concreto per girare in città tipo la tra virgolette la signora che deve andare a fare la spesa che può tranquillamente ricaricarlo durante l'auto allora sì però per i tragisti quel discorso sarebbe necessario la ricarica rapida guardate noi come V-Charging abbiamo un progetto che tu hai sottolineato un'esigenza cioè quello di poter ricaricare l'auto in tempi rapidi e soprattutto senza diciamo avere problematiche che possono scaturire noi abbiamo un progetto che è abbastanza ampio e ambizioso addirittura 2000 colonine di installazione tenete presente che non è che le vogliamo montare noi noi ci teniamo larghi perché cerchiamo di puntare in alto però la normativa europea impone 128.000 installazioni nei prossimi 7 anni questo vuol dire a livello nazionale questo vuol dire anche farne 70.000 come hanno pubblicato alcuni giornali 2-3 giorni fa è un obiettivo molto ambizioso in un momento di crisi dove oggi i dati sono di settembre si vendono all'incirca 70 euro auto elettriche al mese quindi o diciamo noi ci poniamo agli stessi livelli dei partner europei oppure dovremo andare a pagare forse anche dazi e multe per non aver rispettato i parametri che ci hanno messo quindi installare e vabbè lo sai cioè l'Italia no tenete presente noi di EV Charging abbiamo stretto un rapporto con il CNA proprio per lo sviluppo della mobilità elettrica all'interno delle flotte aziendali e quindi la divulgazione della stessa per quanto riguarda le implese perché i primi fruitori di mezzi elettrici sì i VIP vanno benissimo perché loro fanno da flash sul mercato però i primi fruitori effettivamente saranno diciamo coloro che utilizzano diciamo le flotte aziendali poi seguono come specchio sul mercato gli stessi comuni solo che sappiamo benissimo i comuni i vincoli che hanno di bilancio e che noi abbiamo presentato un paio di progetti tra cui quello del comune di Bitonto che è un paese vicino Bari che ha circa 30-26 mila abitanti o qualcosa del genere noi abbiamo fatto un conteggio col quale lo stesso comune avrebbe un'economia che va dal 6 al 14% ripristinando l'intero parco auto e diciamo salendo di categoria quindi utilizzando auto elettriche e auto ibride quindi a parità di costo avrebbero un abbassamento notevole nelle emissioni di CO2 avrebbero un impatto mediatico sulla popolazione sull'opinione pubblica e anche dal punto di vista nazionale enorme e ci sarebbe anche un ritorno quindi non solo in termini di immagine ma soprattutto di sostenibilità proprio dell'intero sistema per ipotesi si possono anche installare a livello privato sì le colonnine si possono installare a livello privato e quello che sta cercando di diffondere EV charging puntando soprattutto sul privato e un po' meno sul pubblico anche se determinati eventi diciamo hanno bisogno di un coinvolgimento pubblico proprio dal punto di vista diciamo informativo sì i privati le possono montare tranquillamente chiaramente bisogna valutare tenete presente che montando una stazione per la ricarica bisogna avere un contatore a parte quindi se io ho un impianto da 3,5 kW a casa sì posso anche come in gergo alcuni dicono io tiro su un cavo e mi allaccio o mi ricarico la macchina cioè è una cosa tra virgolette stupida perché basta accendere un phone per i capelli e salta tutto ma prescindere da questo non è a norma e per questo altrimenti ecco non si diffonderebbero le colonine e le stazioni di ricarica e si oggi perché c'è ancora un vuoto ripeto è tutto a livello sperimentare si 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 di regola si può come la bicicletta e però stati a ricaricare per ricaricare una tesla da casa dovresti stare penso non meno di 10 ore e si ma se hai l'impianto da 3 kilowatt tu sempre 3 kilowatt prendi il problema è che se non ti ricaricare e vedrai la gente che c'è la ricarica quindi sono i kilowatt che danno una ricarica come il kilowatt ti permette la rapidità se hai un impianto da 60 kilowatt gli ampere e kilowatt e gli ampere infatti le colonine sono tarate anche per un certo numero di ampere quella che abbiamo noi ha 32 ampere che ho scusa la colonnina quello è un parcheggio privato di certo un privato non le fa vedere la colonnina quella fu fatta per l'evento inaugurale il parcheggio è fatto a 4 piani ed è tutto automatizzato le persone non possono entrare è tutto automatizzato quindi c'è il tecnico del parcheggio che è gestito dall'avvocato Fiore che ogni volta sale e collega la macchina non può entrare nessuno lì perché è privato ci vuole l'autorizzazione dell'intero condominio anzi mi sembra strano che sia entrato comunque può parlare con l'avvocato Fiore è lui responsabile in che senso se va a vedere in che senso non c'era la colonnina noi abbiamo fatto un evento due giorni fa se abbiamo la possibilità di andare sul sito EV Charging in questo evento ecco la colonnina la cittadina mediterranea della scienza è stata donata da EV Charging e l'altro ieri l'altro ieri è stata c'è stata la cantante biscegliese che è andata a Sanremo Erika Mu quella giovane che ha fatto le fotografie quindi se non crede a ciò che vede non so che dirle grazie a tutti una domanda ma se per soggetto privato intendiamo un soggetto che vuole tra virgolette intraprendere un business cioè una sorta di distributore cioè prendere la colonnina e poi con un valore aggiunto per esempio mettere un barogamese non può lucrare su questo tipo di colonnina cioè se volesse creare un business mettendo queste colonne se per esempio nel comune non c'è la possibilità o non c'è oltre che la possibilità economica anche la lungimiranza di voler fare questo passo potrebbe il privato entrare in un circuito un circuito ma è quello che noi EV Charging stiamo costruendo cioè tu che monti una colonnina nostra EV Charging io in automatico ti inserisco nel circuito EV Charging e quindi sei mappato dalla EV Charging quindi c'è la possibilità sui navigatori di vedere non solo la colonnina EV Charging ma anche la location che sarà dal signor Tizzecaio in via noi abbiamo un accordo diciamo stiamo ultimando un accordo anche con la TomTom per quanto riguarda i navigatori seguitari la quale TomTom si è resa disponibile per poter esternare le nostre colonnine sul loro navigatore grazie ultima domanda anche io non è proprio volevo chiedere se è possibile installare anche in una stazione di servizio di carburanti classico installare in una stazione di carburanti si può in maniera semplice si potrebbe montare una colonnina che eroga fino a un massimo di 23 kilowatt quindi 32 ampere se non sbaglio ma il tecnico non sono io comunque si può fare tenete presente che EV Charging ha all'interno di sé un socio che è l'albergo Petroli che è la stazione di servizio più innovativa che c'è oggi qui in zona è stata inaugurata in via Gentile circa un anno fa lì c'è uno spazio ad hoc dove prossimamente se le vendite di auto saranno abbastanza sostenute monteremo una colonnina e che Dio voglia ricaricheremo anche una prima Tesla qui a Bari grazie a tutti grazie a tutti se chi viene a fare la ricarica il pagamento lo riceve in termini di corrente elettrica il privato giusto? cioè nel senso viene io che ho la Tesla io privato vado a ricaricare la Tesla dalla stazione di servizio devo pagare giusto? non paghi al momento tu hai già una carta precaricata se sei affiliato ai Lugiano e la stazione di servizio che cosa diciamo dove dove guadagna dove la se lo dico a te me lo dimentico io quindi significa che stai andando troppo oltre che non posso sbilanciarmi più di tanto comunque sicuramente avrà un ritorno anche lui chiaramente altrimenti non farebbe parte del network e del gruppo io ho pensato nel mio tipo nel senso che magari la sua bolletta di energia elettrica magari verrà deportata dai soldi che gli vengono portati dai matematici ingegneri attenzione la bolletta elettrica dell'auto è differente dalla ricarica elettrica dell'auto è diversa dalla bolletta elettrica di casa quindi bisogna fare una distinzione di questo poi il sistema di pagamento è un'altra cosa e teni conto che Sorgenia sulla fattura che ti mando ogni mese dice che il 30% è in teoria noi abbiamo bisogna sapere anche leggere quelle bollette e non tutti le sanno leggere comunque noi abbiamo montato la prima wallbox da 23 kilowatt come quella qua fuori in Calabria prima di Enel e prima di tutti trovando un partner che si chiama Omnia Energia che ha vinto il primo premio a livello europeo in Calabria come sostenibilità hanno l'azienda più sostenibile che c'è in Europa dove addirittura la caduta delle foglie ti permette di riscaldare gli ambienti interni all'azienda è una cosa che io sinceramente quando l'ho vista ci ho creduto e loro hanno energia che proviene totalmente da fonte rinnovabile però su richiesta chiaramente quel tipo di energia sicuramente voi lo saprete costa leggermente di più rispetto a quella normale però l'importante non è questo ma è importante l'approccio evolutivo con cui tutti quanti diciamo si accingono a utilizzare questi mezzi e questo diciamo nuovo modo di vedere la mobilità sostenibile tra virgolette oggi non è totalmente sostenibile perché si utilizzano si utilizza energia diciamo da fonti fossili però lo dovresti chiedere a Enel lo dovresti chiedere posso dire giusto due parole su questo molto dico effettivamente che l'auto elettrica inquilamonto ok si no questa è una mia idea giusto così per molti dicono quando si parla di auto elettriche dicono ma l'auto elettrica non è tanto ecologica perché non inquina al momento in cui cammina però inquina a monte perché con l'energia che ha utilizzato magari l'ha presa da Cerano però voglio giusto così magari mi ha detto una risposta diciamo che comunque inquina una volta cioè l'auto termica inquina due volte cioè tu produci comunque il petrolio e comunque inquini e poi inquini all'interno delle città quando naturalmente lo smog comincia a fuoriuscire da tuvi scappamento l'auto elettrica inquina una volta e comunque anche se non è un discorso da fare inquina comunque fuori dalle città perché io penso che l'auto elettrica in questo momento debba funzionare soprattutto nell'immediato proprio nei centri storici qui nei centri città dove dove il CO2 o meglio l'inquinamento è maggiore che sulle superstrade o sulle strade quindi noi cominciamo a rendere non inquinate e silenziose le nostre città a parte il discorso del bip eccetera eccetera e penso che siccome nella maggior parte delle città per dire un'auto elettrica per assurdo risparmia più in città che per strada all'opposto di un'auto termica cosa voglio dire che se io sto con un'auto elettrica in città l'auto elettrica non mi mi fa risparmiare proprio per il discorso dell'energia cinetica della frenata eccetera eccetera quello che invece non succede con l'auto termica quindi oggi la vedrei in questa maniera utilizziamo le auto elettriche per le a città e le auto termiche ancora per i prossimi 3-4 anni per viaggiare così tagliamo la testa altore siamo tutti felici e lo sviluppo va avanti cioè questo è se si poteva uscire a garantire che fosse energia rinnovabile come hanno fatto loro sì sì no no quello lo faremo esatto cioè l'energia società certificate energia 100% esatto ce n'è abbastanza per queste installazioni iniziali ce ne cercheremo proprio di dare quel tipo di energia a parte il discorso di crearsela proprio in clean house e quindi cioè caricare un mezzo sostenibile per l'energia da ponte rinnovante ma